eccoci ragazzi, eccoci amici, stringi amicizia oggi ragazzi sono spider il gatto buffo, abbassiamo un po' il volume ancora ragazzi no, are you babbi? aai si, salta, 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 salta si le si paria oh no non so che non mi califico ragazzi ragazzi aiuta tu io no oh ragazzi non mi califico non lo vuole ma ci vedi oh ah mi sono qualificato no che mi pesci lo caldo non mi sa cosa che puoi fare oh no quante cose che non sa mio padre su stamburgarsi non sa come già non ci vogliono per lo stambul pass non ci vogliono per lo stambul pass non ci vogliono per lo stambul pass se posso scioppare o no dai pensa a brincio va e perchè io non ho questi non li ho scioppati mai vero qua io non ho mai scioppato vedi voi che scioppate su stambul pass dai questo questi torno e lo so meglio che ci posso fare e addirittura il player che ho fatto cadere sapevo dire no sei caduto mi sai che non ti qualifico eeeh nooo se non ti qualifico si come no nella prossima partita e no si ti sei qualificato si per un pelo per un peletto ti sei qualificato ora dovrebbe uscire un'altra partita ogni drop spero o block dash o la suggest nooo hai indovinato hai indovinato hai indovinato bravo hai indovinato questo torno che bello ma ma già non sei scarificato perchè è andato via è uscito guardiamolo dall'alto guardalo dall'alto che fa ma sai guardiamolo dall'ultimo piano che abbia un mante e no ah no vedi è uno vediamo sono finiti i mattoni che non era il volino e ci sono i mattoni anche quelli bresci E' caduto quel tizio E' caduto quel tizio E' caduto quel tizio Vai 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 No 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 sta Bravo No Si è caduto Vabbè Ciao E' una buona supporta Luca Viene Una ninja partita non ci proprio interessa Un attimo mi prudere Il ciglio mi prudere Eh 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 Oggi ragazzi abbiamo fatto con gli studenti Il travasso del vino E abbiamo anche bottigliato Perchè noi Io insegno un istituto tecnico e gradio Di altri E con le ragazze abbiamo messo in pratica La teoria Travasare il vino E imbottigliarlo Capito? Si Non mi credi? Si si Mi senti Oh ma c'è una domanda difficile per te Ma non mi dispiace Si Guardi che sto dietro di te Sì Grazie Dovresti cambiare la skin Capà Allora più usci questa partita Dovresti cambiare la skin Oh bebe Capito? Oh Oh Cambiare skin Annaia la miseria Mannaggia 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 Eh No faccio è un regalo gratis Anzi Dove è un regalo gratis Sì Sì Ecco qua Ah no Però mi ci vedea un posto in giù Così Non mi ha trovato fesi in giù Cominamente Sì E' un regalo piatto in giù Noo Così io sto ancora all'inizio ragazzi ragazzi io mi sa che ancora mi qualifico sto facendo una partita bruttissima nooo dai però non mi qualifico ecco mi sono arrivato pure io ragazzi ciao volevi prendermi guarda che tra un po' finisce il tempo ragazzi ragazzi purtroppo c'ho la videocamera in basso e che dà problemi e vede il dito che fa così e ci stanno andando indietro ma cosa c'è? un po' non ce la fanno a tornare allora ci siamo ragazzi mio figlio si è tolto la maschera e non ve lo faccio vedere perchè ovviamente nel film di Spiderman ai suoi amici non facevo vedere chi era quindi mi faccio vedere chi sono io devo fare un po' di paletti a sindere in due a sindere in due la regia sta buttando il bocca nell'acqua dove la impazzina balla tu si balla si macarena balla tu si una nave qualificato basta poco non muoversi è qualificato mamma mia quando sei stato forte non hai fatto niente ballata e sei non hai qualificato appunto appunto perchè non hai fatto niente sto forti oh blazer che non vuoi fare niente qua probabilmente guarda 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 tu fa fugga e che non lo fa per la skinnepoo e capisci che lo hai detto ha vagato è a vagato ma è un botto ma è un botto ma è un botto ha vagato ok stai a divino la dirlo 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 la mia leggerna è un botto non vedo cavolo di niente perchè c'ho oh oh oddio come mi sono salvato uuuu vabbè mi sono salvato proprio per un il cuffio non ti abbraccio non ti abbraccio perché mi hai fatto guerra non ti abbraccio non ti abbraccio hai perso hai perso fatto bene vedi il regalo gratis te lo faccio vedere mi metto la maschera nessuno cosa? si scuoti aspetta no c'è un regalo gratis sono tanti sono tanti ok aspetta c'è una cosa gratis eh vabbè che me frega ci sta tempo ci sta guarda ci sono tigre secco ci sono tigre secco ci sono tigre ci sono tigre ragazzi faccio il pò dormire la faccia perchè non ve lo far vedere più la mia faccia abbiamo fatto adesso a voi lo voglio quasso fare picco panza picco come in po' il di sta o ne drop ragazzi o ne drop te che mangerà o no te io mi fermo qua sopra a fare un po' di buddy tutti eliminati una botta sarà fatta da 12 a 16 ragazzo tigre viene dietro a me che boh che vuole grande qualificate è eliminato mio figlio come lo devo fare è stato eliminato guarda che c'era con zotti che devo farlo a finire ma questo c'ha no ma c'ha gli abbracci qualcosa di genere mamma mia come si ho osservato giusto a giochiglio non so ma eccolo quello là col nuovo verde aspetta ma dai ma non hai fatto un trick che me ne porta a me ecco ora puoi ballare qui ma che scrab bingio tigre oh siamo in due io tigre io e lui oh questo si mattò devo chiedere la cosa gratis come ha fatto bingio lui? perchè lui è a fare i tricket ok riscuoti sono tanti amici però tempo per riscuote e guarda ma devi pure riscuotta questo e che aspera me ne frega a me guarda Zotigli mi stai invitando pure a te stai invitando ma io non ce l'ho come amico come no dai non ce l'ho dai non esci ma io non ce l'ho come amico non esci da nulla aspetta ma annulla e allora vai su state senti ma per favore per favore guarda mi hai fatto perdere le conigli che cazzo mi gioca con i conigli sto conigli aspetta guarda c'è una cosa gratis ecco già te non hai fatto questo tu io non ti capisco non è perché a me non ha fatto questo ecco ti ho non mi piace niente oh un panda si ma qui pace ecco ora ecco ora e la cosa che che intendo dire è che hai due cose gratis qui che puoi fare il torneo non paghi le gemme invece fai questo ma che cazzo e poi puoi fare questo beh basta va bene basta non mi frega proprio niente di quello che posso ah no aspetta ma qui c'è un nuovo evento c'è un nuovo evento vedi gemme è apposta non ce ne sono due puoi fare il nuovo evento puoi fare il nuovo evento non me ne frega niente dai fa fallo dai ci si invita forza unisci lo tigre si lo tigre si misce uno ciao ecco ecco la mia maschina ragazzi la mia è più bella ma che me ne frega a me la mia è più bella non la devo cambiare oh no beh va a tre l'ultima partita ragazzi no ma si è rotto il mio teletono ma lo so appena ma si è rotto il mio teletono oh 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 dovete capire che la Rander è una delle mappe che fa stagione quindi siamo ragazzi e dovete venire in grande ciao Bari ehi sei anche la righi super ciao Bari faccio subito guardate andate faccio guardate guardate che stanno arrivando paura eh aveva paura paura eh io sono un genio e tu non sei un allora ragazzi se volete vedere quello che abbiamo fatto già scuola andate sul dietro ai gammi soli a scuola da quanto tempo da quanto tempo ma quanto tempo e ancora difesa di due dietro quanto tempo e ancora lì 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 viaggio non nasce quanto tempo e ancora mi fai sentire quanto tempo e ancora a scuola ciao grazie per il passaggio sì sì ciao ciao quale scelgo il centrale scendiamo il centrale tutto più è quello più vicino dove io ti dico eccolo di destra guarda che faccio faccio un baletto ballati sì ballati sì ma carina e lo levi sì ciao ole black dance black dance black dance on sand in the water guarda ma il mio figlio mi tiro la cavola della cosa perché non mi prendo guarda guarda non mi prende ci vuoi dire ciao guarda 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 che faccio guarda che faccio I'm sweet with the water well yeah ciao ballati sì ballati ma carina ballati sì ciao stanno arrivando tutti lo sai ciao ciao vabbè ciao mi vado a qualificare ah 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 sono qualificato guardi dottore boom la vai a vedere le stelle vai vai boom la vai a vedere le stelle oh il meteoide oh è caduto nooo ma vi stai confortando come è il topino di tre anni zottigro mi ha invitato lo sai eh zottigro mi ha invitato lo sai a me non saremmo con l'amica oh no oh no oh no oh no caccavo caccavo questo è caccavo non toccare il colore verde non toccare il colore giallo caccavo che non toccare il colore giallo che non toccare il colore giallo come va a vedere le stelle che è veramente il rino che è un vino che è un vino che è venuta a un'arriza di cielo che è un'arriza di giallo che è un'arriza di giallo si hanno superato in tutti? oh come mi avete permesso di superarmi? oh questa qua è una serie di brocchettone ma allora non vogliai sapere più che bello? oh che pizza qua l'ha perso mio figlio per tirare la valigia ha perso ma ne vendi con? ma pensavo che è una serie di finale adesso per tirare la valigia sì sì pensavo hai cominciato meno di me mi scoppa il figlio pensavo che era una serie di vero allora dopo questa cagata e tu che fai? dopo questa cagata ragazzi con tutte queste cagata che ci puoi fare? dai non mi posso niente dai peri che non mi posso niente da bacio ora fai il nuovo evento eh no fai il nuovo evento eh no eh no eh no gna 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 che cacca mare è questo è mia mamma io devo andare a lavorare dai dovevamo fare la ruota lo win tu ti puoi fare ma non me ne frega proprio niente tre che è qua? hai cinque vite hai cinque vite non le sprecare non devi andare sotto le macchine e non devi uscire fuori dalla mappa hai cinque vite che devo fare? è qui ok bravo evita quello ok bravo bravo ok dopo vai lì vai ok bravo si bravo stai iniziando a fare beh bravo vedi vedi ora qui salta salta da non ecco qui potresti saltare e andare sopra la macchina ok salta ok qui ora devi andare qui bravo no ok no ok bravo va bene dai la prima vita anche due minuti ok no sei hai cinque vite pa perfetto salta risalta fai l'ho presa bravo ok non andare in giù dove c'è il coso rosso dopo ok vai lì vai dove bravo ok vabbè ok bravo ti sei salvato mai lì ok bravo vabbò hai ancora due vite sì questa è l'ultima ok vai qui ok sì vai non è ancora lì hai solo una vita papà è fresca io voglio è fresca è fresca oh ma che cagate ma che cagate ma che cagate ok basta salutiamo tutti aspettare ok salutiamo ascoltare notte possono оч